Un caro saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, c'è Inter Lazio, partita per la quale occorrerebbe uno stadio come sapete da 200.000 posti con la consegna ovviamente della Coppa dello Scudetto all'Inter, ma qui la partita che si sta giocando è molto più importante e va oltre Inter Lazio, anche perché il campionato mi sembra finito, non solo per noi ma anche per qualcun altro, via Allegri dalla Juventus, adesso sprovano addirittura il licenziamento per giusta causa, al Milan ogni giorno c'è un allenatore diverso, mi sembra che questi siano i giorni di Fonseca, ma parliamo dell'Inter perché sono tutti qui ansiosi, giustamente di parlare dell'Inter. Mi spiace dirvelo ma non sono preoccupato nemmeno sull'onda delle ultime notizie, cercherò di fare chiarezza, fermo restando che poi c'è chi francamente non ci arriva, ma noi non è possiamo rivolgerci a tutti, se uno non ci arriva, a chi se ne frega adesso onestamente. Allora, gli scenari possibili per il futuro dell'Inter, come avete capito, sono tre, penso che abbiate capito. Prima di tutto la famosa data del 20 maggio, come vi avevo detto, viene scavallata, gioco forza, non peraltro perché in Lussemburgo, dove comunque c'è l'azienda che ha le azioni dell'Inter, in Lussemburgo lunedì è festa, è la cosiddetta vacanza bancaria, il bank holiday, per cui banche e fondi sono chiusi. Quindi come minimo lo scenario, gli scenari di cui parlo, a parte che sono già avviati, insomma diciamo che gli scenari partono da martedì prossimo, dalla prossima settimana. Scenari possibili tre. Uno, OCTRI, che è il partner silenzioso dell'Inter, concede uno slittamento dei termini rispetto alla scadenza, ripeto, di martedì 21 maggio a questo punto, perché l'Inter finalizzi l'accordo con Pinco. Ok, dice OCTRI, finalizza pure con Pinco e poi mi dici quanto mi devi. Scenario uno, non sto parlando di scenari più probabili, e li sto numerando. Scenario due, OCTRI concede a Zang una proroga di sei mesi, però chiede a Zang, attenzione, di impegnarsi a vendere l'Inter, anche perché potrebbe vantare, dicono, ma qualcuno conferma, qualcuno no, una clausola del 20% sulla futura rivendita. E tra l'altro Ryan Group, dice sempre qualcun altro, e Goldman Sachs, gli intermediari, avrebbero già l'acquirente saudita. E questo è uno scenario, francamente, che OCTRI può anche convenire molto. Terzo scenario che io non vedo probabile, OCTRI escute immediatamente il pegno delle azioni sull'Inter, diventa immediatamente proprietario, quindi Zang perde subito il controllo dell'Inter, ed è OCTRI stesso, che però ha dichiarato più volte di non voler diventare proprietario dell'Inter, si occupa OCTRI stesso di rivendere l'Inter. Allora, la certezza è che Zang non vuole vendere l'Inter in tempi brevi. Insomma, lui ha vinto sette trofei in quattro anni e dice, ma proprio adesso che con la nuova Champions League, con il Mondiale per Club, con lo stadio, al quale io non credo molto ma lasciamo perdere, cioè arrivano soldi a pioggia e proprio adesso io devo liberarmi del mio giocattolo. Quindi Zang non vuole vendere l'Inter in tempi brevi. Il problema con OCTRI è qui, lui vorrebbe, non è che dice io non vendo, però vorrebbe perlomeno aver tempo fino al 2027, ovviamente poi per vendere, se l'Inter continua ad andare bene, sotto la presidenza Marotta, perché io continuo a dire che il presidente dell'Inter è Marotta, che anche agli ambrogini d'oro ha spiegato di applicare nel termine più ampio il concetto di delega, cioè Zang dice, insomma, fatemi godere anche degli introiti fino al 2027. Perché realisticamente tutti sanno che l'Inter ha di fronte a sé un periodo teoricamente florido, sempre fermo restando l'equilibrio tra entrate uscite nelle sessioni di mercato, questo ve l'ho sempre detto. Però, insomma, con i ricavi che aumentano, Zang dice, insomma, io adesso ho anche Suning qui in Cina dove è vero non mi posso muovere, ma perché Suning sta tornando inattivo ed è chiaro che il governo mi ha aiutato e devo far vedere che mi sto occupando anche e soprattutto di Suning. Agli arresti domiciliari, parliamoci chiaro, ci sono alcuni, lo capisco perfettamente, di quelli che mi scrivono qui, non Zang, la cui immagine campeggia sui grattacieli, sul boom di Shanghai e dovunque, anche Sala, alla consegna delle ambrogine d'oro, ha detto ho sentito telefonicamente, Zang, ci siamo fatti complimenti. Cioè, insomma, agli arresti domiciliari probabilmente c'è qualcuno di quelli che mi scrive qui. Però, vabbè, al di là di queste minchiate che ci tocca ascoltare, andiamo avanti. Zang vuole andare avanti con Pinko perché Pinko gli dà più tempo per vendere. Cioè, è molto semplice. Pinko, ricordo acronimo di Pacific Investment Management Company, tra l'altro è una delle società finanziarie più grandi del mondo, fa parte del gruppo Allianz, gestisce qualcosa come 2.000 miliardi di dollari di investimento, 10 volte gli investimenti gestiti da Oktri che in portafoglio non arriva neanche a 200 miliardi. Ma non è questo il problema. Lo schema del prestito con Pinko potrebbe prevedere, tra l'altro, anche, oltre al pagamento degli interessi, ovviamente, oltre alla liquidazione del debito con Oktri, anche una partecipazione al fatturato del club. È chiaro che il controllo di Pinko, ecco, potrebbe essere anche superiore a quello esercitato da Oktri che continua ad avere i suoi due consiglieri, come è giusto che sia, nel CDA. Quindi la certezza è che la famiglia Zang vuole restituire, deve e vuole restituire i 380 milioni a Oktri e vuole farlo con i 435 di Pinko. Attenzione, in gergo finanziario questo è un cosiddetto bridge to disposal, cioè io ti presto i soldi ma tu però devi firmare per vendere il club. Pinko da tre anni, tre anni o due anni e mezzo, comunque fino al 2027 a Zang. Oktri viene da uno di anno. Il problema è questo, cioè tu mi hai convinto a darti i soldi perché so che tu venderai e che magari c'è già un acquirente, ripeto, trovato da Goldman Sachs e Ryan Group gli intermediari. Fin qui siamo tutti d'accordo, però poi le opinioni dei giornalisti finanziari, se avete fatto caso, divergono su chi stia provando in questi giorni a forzare la mano. Ripeto, secondo me si va verso una proroga di tutto, però Bloomberg dice che è Zang, che ritiene troppo alto il tasso di interesse del 15% in time and come si dice, cioè da restituire alla scadenza. Questo dice Bloomberg. Però non ho fonti su questo. L'Ansa sostiene che invece è Oktri che si mette di traverso perché se l'Inter firma con Pinko è vero che Oktri riprende i suoi soldi ma esce dal business via i suoi rappresentanti nel CDA e dato il valore crescente dell'Inter tra vittorie sul campo, sponsor, introiti, diciamo che non conviene proprio adesso Oktri uscire dall'Inter. Loro sostengono tra l'altro di avere anche la clausola per il 20% sulla rivendita, però Oktri non dà tempo, cioè vuole che comunque in un anno l'Inter sia venduta. Zang ovviamente punta ad avere come interlocutore Pinko e non più Oktri perché gli dà più tempo. Poi c'è il Financial Times. Il Financial Times dice ma nessuno in realtà sta ostacolando il rifinanziamento, anzi Oktri è molto collaborativa. Però ognuno vuole giustamente giocare il suo ruolo economico fino in fondo. Secondo il Financial Times tutto potrebbe sbloccarsi settimana prossima, però insomma si mettessero d'accordo tra tutti. Riassumendo, Zang non vuole scadenze brevi sulla cessione dell'Inter. Non è che non vuole venderla, sì non vuole venderla a breve. È questo che sto spiegando a quelli che mi scrivono che sono loro agli arresti domiciliari. È questo il concetto. Lui non vuole vendere l'Inter in tempi brevi, anche perché conta molto sul rilancio di Suning in Cina e quindi nella sua testa, ma questa è una costruzione mia, un domani non aveva neanche più bisogno di prestiti e in salui per gestire l'Inter. Dei margini di crescita ve l'ho detto e però poi al di là degli ossessionati, al di là insomma di quelli che hanno fatto della loro professione, magari anche in pensione l'antinterismo strisciante, che mi date notizie a voi perché io manco me li filo, c'è poi la categoria degli interisti puristi, quelli che come me nati negli anni 60 ti dicono come sarebbe bello avere una proprietà italiana. Sì ragazzi però gente che non va probabilmente manco allo stadio perché ti dicono che i biglietti sono troppo costosi, gente che vorrebbe grandi acquisti, uno status da Premier League e poi è però cavolo io vorrei pagarlo 20-30 euro il biglietto dello stadio e si riempono la bocca con la Premier League dove i biglietti tra l'altro se qualcuno è stato magari in Inghilterra costano molto di più. Insomma non è che si può anche confrontarsi con sta pacottiglia umana, no? Ripeto, gente francamente con la quale è anche difficile discutere. Ripeto, io sono nato negli anni 60 ma credo di aver capito o me l'hanno fatto capire che il calcio oggi è cambiato. La cosa più importante però è che nessuno, né Oktri, né Pinco né tanto meno Zhang, nessuno ha interesse a svalutare l'Inter come asset. Tutti si augurano che l'Inter possa essere venduta al meglio possibile, addirittura più di un miliardo e due, un miliardo e tre, che oggi come oggi fa capire di volere Zhang, si lo fa capire ma poi come vedete cerca di non vendere perché sa che il suo bene, il suo asset è destinato ad aumentare di valore. Quindi ragazzi è vero che l'Inter ha qualche giorno, quattro giorni, cinque giorni per trovare 400 milioni ma il problema mi pare più tra Oktri e Pinco perché Oktri non vuole che sia Pinco a beneficiare ovviamente dell'Eldorado che potrà arrivare con tutte le nuove competizioni. E Pinco naturalmente ti dà tre anni ma conta molto sul fatto che l'Inter aumenti come asset, ma su questo sono abbastanza concordi. Insomma è una questione di tempistiche, nessuno ha mai negato i problemi come vedete, i problemi ci sono, ma continuate a dirmi che ci sono problemi e indubbiamente problemi ci sono, se no non ne parleremo e io continuo a vedere che l'albo d'oro sotto la presidenza Zhang si arricchisce. Quindi francamente non so che dirvi. Aspettiamo naturalmente una situazione che secondo me perdurerà perché io mi aspetto una proroga. Ciao a tutti, viva l'Inter, ci sarebbe Inter-Lazio ma siamo molto più concentrati tutti a capire come va a finire anche economicamente tra la Juve e Allegri e soprattutto chi avrà come nuovo allenatore il Milan. Una cosa è certa, l'allenatore dell'Inter l'anno prossimo sarà ancora il grande Simone Inzaghi. Ciao a tutti e viva l'Inter.